Buonasera amici interisti, eccoci qua dopo l'anticipo tra Fiorentina e Inter vinta dalla nostra amatissima Inter per 2-0. Bella vittoria ragazzi, era una partita, lo sapevamo, lo sapevamo, era una partita difficile, sappiamo che la Fiorentina con noi è una bestia nera, ci deve essere sempre qualcosa, però è arrivata una vittoria, un'altra vittoria in campionato, nonostante la sconfitta con la Juve e tutto quanto, non siamo deconcentrati, è arrivata la vittoria, tre punti importanti, lo dico e non me ne frega niente della scaravanzia, siamo primi in classifica, in attesa della partita del Milan contro il Crotone, in cui comunque sulla carta è una partita facile per il Milan, anche se sappiamo che la palla è rotonda, fino a domenica siamo primi in classifica, lo dico, lo dico perché ragazzi ogni volta dico non diciamo, non diciamo, le Milan vince, ormai sti cazzi, tanto se Milan deve vincere, vince e tanti saluti, siamo primi in classifica, fino a domenica e basta, una gran bella partita, allora nel primo tempo, andiamo in ordine, nel primo tempo ragazzi c'era qualcosa che non mi quadrava, perché comunque è arrivato un gran bel gol, ragazzi, Nicolino Barella, ragazzi, cioè ragazzi, Barella è un centrocampista totale, cioè il ragazzo è fortissimo, è fortissimo, io ripeto, chi dice che corre e basta, non si vede le partite di Barella, chi dice che Barella è uno che corre su e giù e basta, non capisce niente, oppure non guarda le partite, cioè ragazzi, Barella va avanti e indietro per 90 minuti, ha 3000 polmoni e non si stanca mai, recupera un sacco di palloni, fa tanti assist, cross e tutto, e ha iniziato veramente a fare tanti assist, fa gol, i tiri al volo, i tiri al giro, ragazzi, fa tutto, fa tutto, fa tutto questo ragazzo, fa tutto Nicolino Barella, fa tutto quanto, un grande, e sta crescendo sempre di più, tra l'altro, tra l'altro comunque anche sull'irruenza vi riportate Barella ogni partita, tac a Monito, tac a Monito, tac a Monito, adesso diciamo che un po' una calmata sarà sta dando, quindi anche sotto quell'aspetto è comunque molto erruento, comunque è bello aggressivo, eccetera, però non si prende le munizioni ogni tre secondi, adesso se magari quando fa fallo in protesto un po' di meno, sarebbe ancora più top, però ragazzi, veramente un giocatore formidabile, poi dopo il gol però, non mi è piaciuta tanto la partita, perché la Fiorentina attaccava, noi eravamo un po' in confusione, un po' dietro, insomma, quel momento lì della partita dopo il gol, insomma, non mi è piaciuto particolarmente, andiamo gli spogliatori, rientriamo, subito un cambio, loro tolgono Borca Valero per Kwame, quindi tolgono un centrocampista per un attaccante, e noi invece togliamo centrocampista per centrocampista, ma un centrocampista più difensivo, ovvero Gagliardini per Vidal. Questa, secondo me, non tanto per il nostro cambio, ma più che altro per il loro, è un secondo tempo abbastanza tranquillo, che poi, tra l'altro, se non sbaglio, era nel primo tempo un'azione pericolosissima, l'unica, penso, occasione pericolosa della Fiorentina, vera occasione pericolosa, per quel che mi ricordo, quando Perisic si fa fare un tunnel, arriva Bonaventura dentro l'area, tira una missilata, becca la traversa, rimbalza per terra, arriva dall'altra parte, arriva Biraghi di Mancino, che per fortuna la tira centrale dove sta Andanovic, Andanovic fa comunque una bella parata, perché lì ti si è appena preso una traversa dove sei caduto per terra, ti sei alzato, ti sei rigirato, ti sei ritrovato nel Mancino di Biraghi, comunque è una bella parata, sei stato riattivo. Per fortuna, però, diciamolo, diciamolo, che te l'ha tirato addosso, perché se l'angolava e non era dove stava Andanovic, secondo me sappiamo tutti come andava a finire il loro sguardo magico, no? Ecco, si siamo capiti. Qual è stata l'azione pericolosissima? Mi pare che nel primo tempo, nel secondo tempo, comunque non c'è stato chissà quale grande occasione che io mi ricordi in questo istante. È una partita piuttosto tranquilla. Troviamo il 2-0, con ragazzi, anche oggi, Achimi infermabile, va come un treno, non c'è nessun fallo, perché anzi è quell'altro che non riesce a tenere, va giù, palla in mezzo, ragazzi, Perisic a porta libera, almeno a porta libera riesce a segnare. E c'è da dire che da quel gol, Perisic era anche un attimo, da quel gol in poi, dopo quel gol in poi, Perisic sembrava un po' più reattivo e quant'altro. Però la Fiorentina non ha fatto chissà cosa, cioè, non vorrei, secondo me, che magari, torniendo Borcavalero, che è un uomo in mezzo al campo, quindi, cosa ha fatto Brandelli? Ha tolto un uomo in mezzo al campo, tra l'altro un palleggiatore, e un uomo in più a mezzo al campo, ha messo una trapunta, che era Kwame. Kwame a me piace molto, infatti, avevo anche un po' di timore, io non capisco come possa giocare Vlauvić, e non giocare Kwame, cazzi loro, però, magari, togliendo quell'uomo in più, che avevi, in mezzo al campo, lo togli dal mezzo al campo, per metterlo in attacco, magari hai lasciato il centro campo, in mano all'Inter, e quindi, a costruire l'azione, non sei più riuscito a farlo come prima, che comunque, nel primo tempo, sì, c'è stata quell'azione pericolosa e basta, però comunque, la Fiorentina pressava molto, era sempre in avanti, infatti, l'ho detto, non è che mi piaceva tanto, forse questa mossa, non è stata proprio azzeccatissima, forse Prandelli, vedendo nel primo tempo, che la Fiorentina, comunque attaccava, ha detto, fammi mettere un attaccante, però tu lì, hai lasciato il centro campo in mano, all'Inter, e lì, forse non sei più riuscito a ripartire come prima, non lo so, questo non lo so, raga, fatto sta che Andanovic, ha fatto la sua partita, ha parato quello che doveva parare, grazie, poi Dragoschi, ragazzi, oh, ma ha fatto tre parate incredibili, tre parate veramente incredibili, su Perisic ancora, se c'è la doppietta di Perisic, ragazzi, crollava qualcosa, Perisic da fuori aria di Mancino, angolata, perfetta, Dragoschi, si tuffa, si lancia, la para, e via, poi, chi era l'altro, Gagliardini, anche Gagliardini, ragazzi, se facciamo pure Gagliardini, c'è Barella, ancora Barella, cross, perfetto regagliardini, che la angola pure bene di testa, Dragoschi, altra parata fantastica, ho detto, vabbò, poi c'è stata una terza azione, una terza occasione, che non mi ricordo di chi era, comunque c'è stata un'altra azione, che Dragoschi ha fatto anche un'altra bella parata, adesso non mi viene in mente di chi, però c'è stata un'azione, un'altra azione, in cui Dragoschi ha fatto un'altra ottima parata, vabbè, quindi anche Dragoschi, GG per lui, gran bel portiere, me l'ho sempre detto, però una su tre potevi farne entrare, una su tre potevi farne entrare, annullato un gol all'Inter, giustamente per fuori gioco, però ragazzi, che dire, bene così, tre punti, siamo primi in attesa del Milan, e adesso testa al ritorno con la Juve, che attenzione, secondo me non è niente di chiuso, perché la Juve, se vuole la qualificazione, se la deve sudare, è vero che è difficile, che loro abbiamo perso in casa, hanno fatto due gol fuori casa, il gol fuori casa vale doppio, bla 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 bla, noi dobbiamo andare lì, e fare subito gol, dobbiamo farne almeno due, poi se subiamo un gol o no, certo se non lo subiamo, e vai a vincere 2 a 0, passi, e tutti d'accordo, ma io penso che, se l'Inter va tutta sbilanciata, può fare benissimo due gol, ma almeno uno se lo piglia, quindi, secondo me, tu devi andare lì, devi cercare di fare subito due gol, poi, se ne pigli uno, amen, ragazzi, dobbiamo fare due gol, perché se tu devi stare attento, pure alla difesa, quando cazzo segni, devi fare due gol per forza, perché se ne fai uno, e vinci una a 0, sei fuori, per il gol fuori casa, se ne fai due, e ne subisci lo stesso a 0, che loro non prendono la porta, manco morti, boh, se ne prendi uno, vabbè, vai ai supplementari, meglio ai supplementari, che venire, buttati fuori subito, quindi, bisogna andare lì, pensare a fare due gol, se ne subisce uno, ragazzi, tranquilli, non fa niente, l'importante è non subisne due, ma l'importante, soprattutto, è farne due, perché la cosa principale, è farne due, e non è niente chiuso, quindi, ragazzi, aspettiamo il Milan, poi dopo questa giornata, pensiamo alla Juve, ragazzi, sempre forza Inter, crediamoci sempre, mai, e niente, è impossibile, per la nostra, pazza Inter, amala sempre.